Ragazzi, oggi è San Valentino e voglio fare una sorpresa a mia moglie, non se lo aspetterà mai ragazzi perché io non festeggio mai San Valentino, sempre o un giorno prima o un giorno dopo lo festeggio quindi gli vado a fare un pensierino, un tulipano accompagnato da un cuore di bacetti e vediamo la sua reazione, venite con me ragazzi Eccoci qua regalà, mi sta consigliando, che c'è consigli caro? Allora, dicci un po', pulso di tulipani, in mezzo a una bella rosa rossa Eccoci regalà, è pronto, c'è la rosa in mezzo, guardate che stile vediamo mia moglie se mi manda a fare la cosa e mi dice, oh cucciolo come sei carino Ah questa è da conquista, questa è da conquista Allora regalà, che sto facendo, abbinare, vedi attaccare il cuoricino dei baci perucina così sembra un po' meno pulciano, capito? Giusto? Ottimo regalà, e andiamo, si parte Grazie, eccoci, adesso vediamo, che reazione ci avranno da moglie Eccoci qua, guarda, vediamo qua Allora, seguiamo a cartone, vediamo qua Auguri, Luli Grazie, mi piace Ti piace, no? Sì Un bacione Ta spietà, je? No Grazie Grazie a tutti.